Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a Fortnite che, addio, non è riuscito, quindi in questo caso è impossibile avviare Fortnite, verifica l'installazione. Andiamo direttamente nella sua cartella, quindi facciamo refute, andiamo direttamente nella sua cartella, facciamo tre puntini, gestisci, vai su, cartella, qua, Fortnite Game Binarys 1.64 Andiamo fino a giù nel trovare Fortnite Client Binarys 1.64 Shipping Adesso testo sopra, proprietà, compatibilità, esegui questo programma come amministratore e toglie spunti su esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8. Poi applica e fai ok. Una volta fatto chiudi un attimo qua, cancella un attimo la cartella DirectX 12, la cartella BattleEye e la cartella EasyAnticine. Chiudi un attimo qua. Andiamo sempre sui tre puntini, gestisci e facciamo la verifica ai file. Ed ecco che lo sta scaricando. Sta scaricando alcuni file mancanti e i file che abbiamo cancellato. Ok, una volta fatto non apriamo Fortnite. 3 puntini, gestisci, vai nella cartella, Fortnite Game Binarys 1.64 Vai su Fortnite Launcher, proprietà, compatibilità e metti queste spunte qua. Si abbiate l'ottimitazione di schermo intero, esegui questo programma come amministratore. Fai applica e fai ok. Fortnite lo devi sempre avviare nella cartella di Epic Games. Quindi sempre la libreria di Epic Games e facciamo avvia. Ed ecco che Fortnite si è avviato. Connessione in curso. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo all'avvio su Fortnite. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Ciao.